ma l'Italia c'è, l'Italia è viva prova ad attaccare adesso con Berardi sulla fascia di destra, uno contro uno con Riccardo Rodriguez che si rinnova se la porta su destra, prende il fondo arriva adesso però Locatelli 1-0 per l'Italia ma non Locatelli meritatissimo parola a voi ragazzi, 1-0 ha notato cinque sto ora grande azione grande azione grande azione qui di Berardi che ha seminato il panico Locatelli fa le cose per bene ricordate riprendiamoci Locatelli porra caccia Locatelli da domani di Juventino quindi domani si chiude l'altra bomba vi do è arrivato il messaggino domani si chiude qui esclusive su esclusive eccolo qua ancora il numero 18 in possesso scarica bene per Locatelli che è solo guarda il porto e caccia ma non Locatelli arriva la doppietta straveritata con il pancino la mette all'angolino 2-0 per noi nel momento forse più difficile ma che gol lo batterebbe che so che provare l'Italia però con Immobile che guarda in portacalcia c'era il mobile lo avevo detto quando parla Cosimo è una sentenza 3-0 per l'Italia la faccio apposta perché ho capito che questa è una tecnica che porta fortuna capito? e quindi e l'avevo detto grazie 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 a tutti